Si azzera tutto o quasi. Dal lunedì 2 settembre il centro cittadino fino ad oggi interessato dalle limitazioni di traffico della ZTL aprirà i varchi e sarà consentita la libera circolazione dei veicoli, fermarestando le limitazioni già in essere di sosta e fermata. Un'iniziativa dell'amministrazione comunale per andare incontro anche alle richieste dei commercianti che proprio sulla ZTL hanno spesso puntato il dito. Abbiamo sentito l'opinione di alcuni esercenti dell'area fino ad oggi interessata dalla ZTL. I benefici abbiamo molti dubbi, nel senso che sicuramente passeranno molte più macchine. La domanda che viene spontanea è dove si potranno fermare queste macchine perché il cliente possa venire in negozio e con tranquillità scegliere il regalo o quello che deve comprare. La mia opinione è che prima di aprire il varco così bisognava rivalutare sicuramente i parcheggi e soprattutto tutto intorno all'area della ZTL, rivedere le tariffe. Non so se sarà a favore dei commercianti, vedremo come andrà a finire. Alla fine è un esperimento che non chiude assolutamente le porte alla ZTL perché nessun commerciante ha chiesto un'abolizione della ZTL. è stata chiesta una sospensione temporanea in modo tale che la ZTL venisse rivista. Io sono d'accordo a riaprire un po' il tutto, stabilire un po' delle regole e vedere un po' anche orari diversi. Poi magari anche una ZTL fatta meglio andrebbe anche bene. Il problema non è la ZTL, però mi auguro che qualcosa ci porti. Per quanto mi riguarda sì, anche se poi tutto rimarrà uguale. Nella mia testa pensavo si potesse anche parcheggiare per il cliente che comunque viene e vuole parcheggiare un po' più vicino. Sono favorevole in previsione di un rifacimento, una nuova rivisitazione di tutto il concetto di ZTL. Mi auguro che si faccia prima possibile e che si ritorni in città a passeggiare tranquillamente a piedi come si fa in tutte le altre città d'Italia ed Europa. Per me è come tornare vent'anni indietro. Tutte le città del mondo, i centri storici ormai sono delle ZTL. Invece di cercare di migliorare questa ZTL la tolgono per una questione sicuramente di propaganda elettorale, politica e quindi adesso evidentemente si sentono in dovere di dover accettare questa ZTL. Il passaggio delle auto sarà una cosa terribile perché le famiglie non si sentiranno più tranquille di dover passeggiare con i propri figli, ma tutti parcheggeranno addirittura anche la prima, anche in seconda fila e sarà una cosa terribile. Non ci sarà più, anzi il centro storico dovrebbero toglierle completamente le macchine, dovrebbe essere tutto elettrico completamente. Io penso che è una prova che bisogna fare, dopo tanti anni di ZTL che pensavamo che avrebbe portato più movimento, adesso è giusto farla perché così avremo un metodo di confronto rispetto a quando c'era la ZTL.